Quanto sono importanti gli esercizi? Tanto. Tanto perché innanzitutto c'è una scientificità, cioè le prove scientifiche che gli esercizi aiutano a ridurre il dolore. Sono il dottor De Filippo, fisioterapista, e agisco sulla causa per eliminare i sintomi. Sono specializzato in terapia manuale dolce ed esercizi perché sono quelli che mi danno risultati migliori, più a lungo termine e senza effetti collaterali. E ora leggi attentamente il disclaimer. E quindi già questo sarebbe sufficiente. Poi non hanno effetti collaterali se facciamo gli esercizi correttamente e hanno degli effetti positivi anche a livello circolatorio e su altri apparati corporei. Quindi perché non usarla come terapia? È sicuramente una parte fondamentale ed è una parte fondamentale anche come prevenzione. Io non mi stancherò mai di ripetere che secondo me la prima cosa da fare è sempre la prevenzione. Poi dove la prevenzione non riesce ad arrivare allora arriviamo noi. Arriva il terapista, arriva il fisioterapista, l'osteopata, il chiropratico, chi più ne ha più ne metta. Però se noi riusciamo a fare una buona prevenzione potremmo anche evitare tanti sintomi, tante malattie. Quindi primo prevenzione. Secondo si può usare sia come prevenzione che come cura. Quindi noi anche quando abbiamo già dolore possiamo fare gli esercizi. Non dimentichiamo che gli esercizi sono sostanzialmente dei movimenti. Quindi se uno fa i movimenti corretti si può fare anche in fase acuta. Quando il paziente mi dice è però io in fase acuta bisogna che aspetti non posso fare niente. Non è vero. In fase acuta si faranno le terapie della fase acuta. Si faranno magari più esercizi, si faranno più posizioni mantenute invece che andare a fare delle cose tra virgolette più intense. Però non è che in fase acuta non si possa fare niente. Io per primo in fase acuta mi muovo, faccio esercizi e faccio tutto quello che secondo me è corretto per migliorare i miei sintomi. Dottore, dottore, guardi il referto della mia risonanza e mi dica gli esercizi che posso e non posso fare. Mi dica quale video che lei ha fatto può andar bene nel mio caso. Beh io posso guardare tutti i referti della risonanza ma non riuscirò mai a capire da un referto, ma anche guardando il cd, quali sono gli esercizi che il paziente può fare e quali sono quelli che invece sono controindicati. Cioè la risonanza magnetica non mi dirà mai guarda che se il paziente prova a fare questo movimento avrà più male. Oppure guarda che se il paziente prova a fare questa rotazione allora starà meglio. Non me lo può dire. Solo la visita accurata del paziente lo può far capire al terapista. Come già ho detto in altri video bisogna sempre fare una valutazione in presenza, non a distanza, non guardando i referti degli esami. Adesso c'è un po' questo pensiero nell'immaginario comune del paziente che la risonanza sia una diagnosi. Cosa assolutamente falsa. La diagnosi la fa il medico. La risonanza non è una diagnosi. La risonanza aiuta, può aiutare il medico a fare una diagnosi ma può anche non aiutarlo. E può aiutare noi a capire se ci sono delle cosiddette red flag, cioè delle bandiere rosse. Ovvero qualcosa che io non posso trattare e che anzi devo stare attento e quindi devo indirizzare subito il paziente al medico perché in base a queste bandiere rosse ci potrebbero essere dei problemi da curare e anche alla svelta. Ora bisogna fare una valutazione e bisogna fare gli esercizi insieme al paziente per valutare quali vanno bene, quali danno effetti positivi e quali danno effetti negativi. Ci sono dei metodi creati apposta, per esempio il metodo McKenzie basato su esercizi posture mantenute che è molto utile per ridurre il dolore, però non si può fare a distanza. Bisogna capire bene quali sono le caratteristiche del dolore, quasi sono i movimenti giusti e i movimenti sbagliati. Gli esercizi sono fondamentali in riabilitazione soprattutto dopo una frattura, un intervento chirurgico, una distorsione di caviglia perché permettono di recuperare il corretto range articolare, cioè la giusta ampiezza di movimento, ma anche la forza e soprattutto la coordinazione, cioè quando noi teniamo fermo il braccio per un mese nel momento in cui riproviamo a utilizzarlo notiamo che ci sono delle difficoltà, notiamo che è come se avessimo dimenticato come si fanno certi esercizi. Figuriamoci le gambe, l'equilibrio cala tantissimo, quindi dopo un'infortunia alle gambe bisogna lavorare oltre che per recuperare la forza e la flessibilità anche per recuperare l'equilibrio, la coordinazione, per riuscire a muoversi correttamente, a fare le attività che riuscivamo a fare prima e avere anche quella sicurezza che prima avevamo ma che dopo aver avuto questo infortunio non abbiamo più. In caso di dolori cronici, per esempio una lombalgia, un mal di schiena, un dolore al collo, gli esercizi sono fondamentali perché aiutando la coordinazione mi permettono di recuperare degli schemi di movimento che avevo perso. Per esempio un paziente che fa sempre dei movimenti ripetitivi usa sempre gli stessi muscoli, gli altri non è che li perde, ci sono, sono ancora forti, però come se dimenticasse di usarli. Invece nel momento in cui noi riprendiamo a fare un'attività fisica equilibrata, corretta, con movimenti in tutte le direzioni, li riattiviamo, riattiviamo questi muscoli, evitiamo di sovraccaricare sempre gli altri perché a un certo punto quando noi ci dimentichiamo di usare alcuni muscoli lavoreranno sempre gli altri e quindi saranno più sovraccarichi e potranno causare dolore. Negli sportivi che ovviamente hanno degli infortuni ma hanno già un buon tono muscolare, molta forza e hanno già una buona elasticità si lavora molto con gli esercizi di coordinazione ma soprattutto di equilibrio. Gli esercizi di equilibrio mi permettono di lavorare proprio direttamente sui nervi, anche quelli di coordinazione, però sugli sportivi ho visto che gli esercizi di equilibrio hanno dei risultati migliori perché lavorando proprio sui nervi e sul sistema nervoso vanno diciamo un po' all'origine dove nasce tutto, dove nasce il movimento e dove ci sono più problemi. Quindi gli esercizi sono una valida terapia, sono supportati da prove scientifiche, sono molto utili, non hanno effetti collaterali ovviamente se fatti bene perché anche quello è importante nel senso non basta fare esercizi così come vengono perché se io vado per esempio a forzare un movimento se io avessi dolore andare indietro con la schiena e continuo a forzarlo e cavoli io magari avrò sempre più dolore, non migliorerà la situazione, poi magari non spacco niente, non rompo i dischi, non rompo le vertebre, però invece di migliorare continua ad avere dolore e a peggiorare, invece magari in quel caso potrebbe essere più utile un movimento in rotazione per esempio. Quindi è fondamentale fare gli esercizi bene, alcuni dicono sì puoi farlo come viene viene, è importante muoverci, a quel punto io dico beh allora meglio una camminata, migliora la circolazione, si sta l'aria aperta, si prende un po' di sole, meglio per tutti, è anche più semplice. Invece no, l'esercizio è valido, anche Robin McKenzie dice sempre di trovare la direzione corretta dell'esercizio, non dice sì prova quello, prova quell'altro, magari van bene perché alcuni vanno bene ma alcuni vanno male, stiamo parlando di gente che comunque ha dei dolori, ha dei disturbi, non stiamo parlando di un quindicenne che sta bene e vuole vincere una gara dei 100 metri ostacoli. Tuttavia il procedimento più corretto consiste prima nel trovare la causa e poi nell'effettuare gli esercizi che mi serviranno per recuperare le abilità, per recuperare la forza, la flessibilità, l'equilibrio e per riuscire anche a prevenire infortuni futuri. Non dimentichiamoci che spesso gli infortuni, soprattutto quegli sportivi, sono dovuti a mancanza di coordinazione ed equilibrio. Grazie per l'attenzione, ora guarda questo video che ho preparato con cura per spiegarti bene cosa fare. Prima però non dimenticare di mettere like, condividere con tutti i tuoi amici per farli stare bene e lascia un commento per qualunque domanda o suggerimento. Rimaniamo in contatto, seguici su Facebook, Instagram e TikTok.